C'è una discrepanza tra sogno e realtà. Però può anche succedere che qualche sogno non si avveri. Ma non è una tragedia, è un dolore. Certo, a volte è una fregatura anche. La vera tragedia è un'altra. La vera tragedia è quando noi abbiamo lo stesso amore, la stessa voglia, lo stesso desiderio, nello stesso momento, sia per il sogno che per la realtà. Quando cioè si mischiano questi due universi e noi non sappiamo più dove andare. E invece, diciamo così, la commedia, la bellezza, la parte migliore è quando noi sappiamo usufruire della stanza del sogno in un certo momento e della stanza della realtà in un altro. Ed entrare ed uscire da queste due stanze sapendoli di separare il sogno e la realtà nella loro interezza. Dottore, è che non riesco a distinguere i sogni dalla realtà.